Vediamo il fatto dei colpi che rimbalzano Eh, effettivamente rimbalzano Ah, madonna, è rotta sta Ma quanto do... Eh, lo sai, ma quanti... Ma? Ma? Riga, bellissimo quest'oggi Siamo proprio... Siamo qua dove? Ma su Brawl Stars, ovviamente Perché se io adesso vado nel Brawl Pass Mancano solamente un minuto e 24 al nuovo Io ho 32 gemme, però No, devo shoppare, mi sa Mannaggia, mef Qua purtroppo non ho offerte che mi diano una mano Prenderò la doppia gettoni, per carità Nel pass, sì, devo andare a prendere le gemme Vediamo se ce la faccio, allora Altre 20 di qua e qua direi che abbiamo finito Stagione precedente Eh, no, le avevo già prese, raga Vabbè, intanto aspettiamo il pass E poi si shoppa E siamo a 10 secondi, raga Ormai siamo lì, lì Vorrei sbocciare, ma quest'oggi no Quest'oggi, ragazzi, si è sobri Tranquilli, spensierati L'acqua minerale la lasciano da parte Manca un solo secondo Fine stagione tra zero Adesso se io torno In teoria dovremmo avere il nuovo pass Hola Stagione sei La banda di braccio d'oro Che vabbè, in realtà Solito pass Abbiamo la skin di Colt Che andremo a provare tra poco Abbiamo il pacchetto alla soglia 10 Le solite casse Gemme, oro Solita roba Bella la soglia 30 Che tra l'altro Si può anche andare a provare E quindi si va a provare E certo, è certo, è certo Vediamo un po' come funziona sto brawler Allora, io tipo Intanto c'ha un raggio Beh, ma quanto è lungo Ma è più lungo di mai per il raggio d'azione E lagga pure il campo di prova Molto bene Prima volta che vedo il campo di prova laggare D'ogni modo Toglie 1100 per ora E poi ovviamente in base al livello cambia Si, ma c'ha un raggio d'azione Che è immenso Ragazzi, ma che è? Ma quanto lagga? Ma è il campo di prova che lagga ancora? Ma non si può guardare Vediamo il fatto dei colpi che rimbalzano Eh, effettivamente rimbalzano Ah, madonna è rotta Ma quanto Eh, lo sai, ma quanti Ma 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 io ora non pensavo fosse una cosa così rotta Ma se io tipo faccio così, così e così Ah no, va solamente con l'ultimo colpo Cioè, quindi se io sparo qua e sparo là Eh no, rimane invece Aspetta, facciamoli spawnare tutti, va Ok, ritorniamo Io tipo sparo un colpo qua e un colpo là Vediamo Eh no, va avanti con tutte e due Ma è rotta sta cosa, ragazzotti miei Anche qua comunque l'ulti dura un bel C'è il livello di raggio, è bello lungo Ah, è vero, c'è il mirino Ma non mi ricordo cosa fa il mirino Mi sa che subisce tipo più danni Quindi per ora io tolgo 1.400 Ma quanto lagga? Oh, non può laggare il campo di prova 1.485 Se ora la uso di là In teoria Esatto, io tolgo 1.100 Eh, bella rotta sta cosa, ragazzotti miei Bruller è veramente molto forte La vita ovviamente non è granché E vorrei vedere Altrimenti sarebbe stato ancora più rotto Continuiamo a vedere il pass Vabbè, abbiamo tutte le reazioni Che sicuramente avrete già visto Ma io voglio vedere quella reazione Quella reazione, dov'è? Eccola, quella che fa Poi tra poco abbiamo quelle della skin Che insomma, quelle sono molto succulenti Anzi, in realtà l'abbiamo già passata Quella della skin, ho scammato Quella della skin ovviamente Sono quelle dove si vede il ciuffo rosso Quindi dove è bianco Sono quelle normali Ecco qua, sono col ciuffo rosso Quindi sono quelle della skin Eh sì, molto, molto carino Sto brawler Molto bella anche la skin finale Ah, possiamo provare anche la skin finale Ah, beh, molto contenutistico Se si può provare anche la skin Che fai, la butti? Ma proviamolo immediatamente Che ha sto colpo incredibile Che spara Tira una bottazza incredibile E lagga ancora Veramente molto buono Mi sa che tra poco i server Andranno offline Quindi la ulti qua Tira un mega colpaccio incredibile E insomma, il concetto Comunque rimane sempre lo stesso Ragazzi, non vedo l'ora di sbloccarlo E fare il grado 20 Da livello 1 Come il mio solito E però per sbloccarlo Bisogna ovviamente andare prima A shoppare il pass ragazzi Quindi non ho le gemme necessarie Per shopparlo Costa come sempre, vero? Attiva Sì, 169 Oddio, potrei shopparlo con le soglie Ho bisogno di 140 gemme circa E 140 gemme costano la bellezza di 11 euro Investimento ragazzi Perfetto raga Gemme acquistate Sì, azione completata Grazie mille amico mio Hola E adesso si fa Vi direi di usare il codice Raxor Ma non esiste A meno che non l'hanno messo a minsa No, non c'è Non c'è il codice Raxor Andiamo Attiviamo Con il bundle Sì, voglio le decisoglie Sì, 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 sì Eccolo qua Proprio lui quello vero Io direi che Andiamo intanto a prendere Colt Lo proviamo E poi abbiamo il pacchetto di reazioni E non è che magari troviamo qualcosa di anomalo anche lì Quindi subito Colt Eccolo qua In tutto il suo splendore Finalmente abbiamo una bella skin di Colt Perché in realtà Ora come ora di Colt Eccolo qua Colt Avevo Cioè la skin base La skin quella stellare Che va schifo E poi questa Che è una bella skin Quindi ci sta assolutamente E l'andrei anche a provare Non abbiamo ancora Stella solitaria Quell'altra No, ancora non sono uscita Per chi non avesse visto le patch note In questa season Dovrebbero essere ritornati Sia stella solitaria Che caccia il boss Ma eh Non ci sono ancora Comunque andrei su K Proviamolo al volo E vediamo com'è Poi ovviamente Per quel che riguarda i vecchi brawler Adesso c'è il colonnello rinchio Che diventa mitico Mentre lui diventa epico Per cui saranno più facili da trovare Ad ogni modo Beh sì Diciamo che Come skin ha il suo fascino Assolutamente sì Il colpo purtroppo rimane lo stesso Ed è un peccato Perché Oddio Anche se poi Ci può stare Dato che La base è sempre quella Oh occhio La base è sempre quella Ah eravamo contro uno Però magari una piccola modifica Al colpo di pistola Sarebbe stato molto molto carino Ad ogni modo Qua vediamo se riusciamo a buttare giù Spike Era veramente easy Siamo 2v2 Qua posso provare io In un qualche modo A usare il gadget Che potevo anche non usare Vabbè sì Ah che poi a quel gadget Niente Pensavo ad aver l'altro Quindi io qua posso sicuramente Provare a resistere Posso sicuramente provare A resistere ancora Cosa che a quanto pare Sta venendo più difficile Del previsto Buttiamo giù la torretta Spareggio per danni E per ora lo stanno vincendo loro No bisogna buttarci qualcuno Penny veni qua va A Penny A Penny me l'ho capito Non è morto il mio mate Noo Eh niente La vita purtroppo era quello che era Siamo 1 a 1 Andiamo a chiudere allora Ah oh Sì bravi vieni qua Ma che di sta Bottazza Niente Sì mi ha laserato Ma questo è il clone Amico mio Mamma mia brutta storia ragazzi La vedo veramente male Anche perché Leona ha un'altra invisibilità Eh buona a sapersi Ora dove andrà Uso il teletrasporto Andiamo qua in fondo Vediamo se magari da dietro Non se l'aspettano Bello infatti 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 Perfetto Devo clacciarla 2 contro 1 Dai si può fare Io per ora farei una roba del Ge Nere Mamma mia che bottarella Di Gulen Sicuramente ora verranno in basso Per pusharmi Ah qua raga È bello clean però eh Non devi evitarmi Vai Ulti Buono Spareggio per danni No è suo No Eh raga ha vinto Aspetta Miracolo degli dei Se avesse avuto l'altro gadget Qua sarebbe stato stra clean Eh niente ragazzi Peccato l'altro gadget Ci voleva Vabbè andiamo a fare un'altra partita Dai Ti vado anche a cambiare il gadget A sto giro Adesso si vince raga Non ci sono scuse Abbiamo anche Edgar E a me Edgar paura Non me ne fa Allora io proverai intanto Ad aspettare se qua Pusha qualcuno E direi che non pusha nessuno Quindi si va Vediamo se loro aspettano Non aspettano Quanto pare Ma Sono in mezzo Eh sì sono in mezzo Per forza raga Non laggare Oh bello No peccato Beh bella partita insomma Andiamo Lagga Noi stiamo qua Comunque nel chilling Con appunto il Il brew lag E la Sì poi Sì Certo 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 Molto divertente ragazzi Molto molto bello Quando c'è qualcosa di nuovo I server sono sempre molto buoni Sì Sono rimasto da solo Dai Con il brew lag Vivente Dove sono gli altri Sì ma tanto Oh 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 No peccato No ragazzi Avevo buttati giù due Per i danni Non ce l'ho fatta Che scammata Ma questo qua sarebbe stata La place della vita Mannaggia Però qua sai che è bello clean Guarda posso fare questo Però è ancora vivo Mannaggia lui Posso provare anche a fare Perché no questo Ora salterà Vai salta Bravo Due contro uno Salta amico mio Ma è ancora vivo E infatti no Uno a uno Dai che va vinta Sto game per forza Non ci sono scuse Bravo il nostro amico Con la ulti Io qua vado Sicuramente nel bordo Come prima Uno è andato giù Una Easy proprio Easy 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 Molto buono Perfetto Il game è andato Adesso è il tempo Del pacchetto di reazioni Guarda quante belle sfide Che abbiamo già Io quindi vado Pacchetto di reazioni Io vorrei Non lo so Tanto non li uso i pin Quindi qualunque roba mi dia Però uno epico Sarebbe carino Niente non mi dà l'epico Ma tanto non c'è problema Non li ho mai usati i pin Vi giuro E raga io direi che comunque Per il momento Ci salutiamo qua Fatemi sapere nei commenti Se avete preso il pass Se il video poi vi fosse piaciuto Un bel like Iscrizione Campanellina Tattica tattica Noi come sempre ci picchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima